Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Il pubblico ha espresso il suo giudizio, Sofì deve definitivamente abbandonare la casa di Cancelletto GFVIP La finale di Cancelletto GFVIP è alle porte questa sera, nel corso della puntata, oltre di esserci una seconda eliminazione verrà decretato il quarto finalista di questa edizione Alfonso, dopo aver aperto il collegamento con la casa, manda all'interno della Superlegge Jessica, Baru, Giucas e Sofì e, dopo aver annunciato la seconda eliminazione della serata, chiede ai tre finalisti di raggiungere la stanza per effettuare una scelta molto importante, decidere chi, tra i preseti, merita di andare in finale È il turno di Delia, la VIP pensa che sia proprio Jessica a meritare la finale, da quando è entrata e cambiata molto esclama Dopo di lei, Lulu sceglie di salvare Sofì, è la mia amica e dal primo giorno, non ci siamo mai separate Davide, invece, sotto consiglio di Baru, decide di mandare in finale Giucas in quanto ha condiviso con lui questo splendido percorso fin dal primo giorno Baru è uno dei VIP in nomination e questa sera aspetta proprio a lui decidere chi tra Jessica, Sofì e Giucas dovrà sfidarlo al televoto Flash Il concorrente decide di mandare in nomination Sofì, chi dei due dovrà abbandonare per sempre la casa? E chi, invece, diventerà il quarto finalista di questa edizione? Per Baru e Sofì è giunto il momento di scoprire l'esito definitivo del televoto Con le spalle rivolte verso il LED, Alfonso svela che a dover abbandonare per sempre la casa del grande fratello è Sofì La modella, dopo aver salutato i suoi compagni d'avventura, ringrazia ciascuno di loro per la bellissima esperienza vissuta insieme, grazie di tutto La splendida avventura di Sofì termina qui e la VIP, fiera per il suo percorso, barca la Porta Rossa per l'ultima volta Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video